Faremo il passante di Bologna meglio di come l'abbiamo ereditato il progetto e probabilmente spendendo la metà. Sono affidate ancora una volta a Facebook le parole del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli sulle grandi e piccole opere, passante compreso. Si farà meglio e spendendo la metà, afferma Toninelli in un videomessaggio nel quale dice di voler sfatare quello che definisce il falso mito che il Movimento 5 Stelle voglia bloccare i cantieri, snocciolando una serie di opere sotto i riflettori, a cominciare dalla TAV e passando per il Mose di Venezia e il Brennero. Un messaggio che arriva due giorni dopo l'annuncio del ministero sul rush finale del lavoro tecnico sui progetti alternativi per il passante di Bologna, ormai in via di conclusione con l'obiettivo di avere una soluzione definitiva entro metà febbraio. Tempi che escludono la possibilità che venga convocata entro una settimana alla conferenza dei servizi, come da richiesta, anzi da diffida, inviata al governo dalla regione Emilia-Romagna d'intesa con comune di Bologna e città metropolitana.